Tasto F9 di Excel a che cosa serve? Praticamente ci permette di ottenere il risultato parziale di una formula che abbiamo realizzato. Può essere veramente molto utile quando abbiamo delle formule molto lunghe e complesse dove abbiamo la necessità di capire i vari passaggi, quale tipo di risultato ci dà. Allora qui ho un po' di tabelline e qui ho una formula molto semplice, un somma a sé che somma questi valori dove trova il valore in G su quest'altra colonna e poi la moltiplica con un cerco verticale prendendo il parametro di qui e cercandolo in questa tabella. Se io seleziono questa porzione di formula e premo il tasto F9 ecco che ottengo il risultato parziale di questa formula quindi 620. Attenzione a non premere invio perché se premete invio poi la formula mantiene il valore che avete richiesto col tasto F9. Quindi facciamo un CTRL Z, entriamo sempre in F2, quando premiamo il tasto F9 per tornare ad avere la formula di prima o premiamo il tasto S così annulliamo l'operazione oppure premiamo la combinazione dei tasti CTRL Z e ritorniamo in modifica della formula.